Io sono il padre dell'attesa. Io attendo voi giorno e notte. Scruto i vostri cuori e cerco il più piccolo anelito che vi avvicini a me. Io sono paziente e attendo. Molti sospiri ci sono nel mio cuore divino e non mi stanco di attendere. Io sono chino su di voi e ascolto i palpiti del vostro cuore e spero che ce ne sia uno per me. Io sono il padre della speranza che non demorde di fronte a ogni avversità. Io sono il padre del perdono che perdona tutte le vostre bestemmie e sono certo del mio amore infinito che ha già perdonato prima ancora che dal vostro cuore sorga la preghiera di pentimento. Io sono il padre che spera, che attende con pazienza ogni figlio. Non abbiate paura di me. Cercate piuttosto di conoscermi, perché voi non mi conoscete. Nessuno tema il mio giudizio se vuole ritornare a me con tutto il cuore. Io attendo i figli pentiti e li perdono. Io sono potenza. Io sono tenerezza infinita. I vostri cuori hanno sete della mia tenerezza che colma tutti i vuoti, tutte le sofferenze, che risana tutte le ferite. Io possiedo tutto ciò che voi desiderate. Io sono la pace. Sono, ansioso, di perdonarvi e di accogliervi tra le mie braccia. Quale festa al nostro incontro? Ci uniremo, io e voi, al gaudio dei santi nella luce. Ma non crediate che io sia solo lassù. Nell'alto dei cieli perché sono con voi tutti i giorni e sempre. Io sono sempre a vostra disposizione e vi attendo. Mi permettete di chiedervi un dono? Ebbene vi chiedo la gioia di un incontro. L'appuntamento è alla Santa Comunione. Venite come siete, poveri e peccatori e rivolgetevi a me come i figli si rivolgono al Padre. Vi benedico e vi aspetto.